In una società come la nostra, talvolta, si fa fatica a comprendere come mai alcuni accadimenti debbono essere ignorati dalla gente come se nulla fosse. Parliamo di degrado familiare, ovvero della vita che molti bambini conducono nella più assoluta indifferenza da parte degli adulti, come se fossero stati messi al mondo dalle loro genitori per un semplice capriccio o come conseguenza di insensate esigenze amorose. Parliamo di un fatto realmente accaduto a Rocca di Neto e che ha visto come protagonisti un bambino di appena 5 anni, i suoi 4 fratelli, di cui il più grande dovrebbe averne 11, e l'arma dei carabinieri, che, come nei vecchi film dei grandi vittori di Sica, ha dimostrato ancora una volta di essere sempre presente nelle difficoltà e di adoperarsi con grande umanità nelle questioni sociali. In una domenica prima avrile, quando soleggiava, mentre la gente, come al solito, va a messa o si incontra al bar per un aperitivo oppure intenta sbrigare le faccende di casa, un bambino di nazionalità rumene decide di lasciare la propria abitazione, vagando per le vie del paese come se nulla fosse. Ed in questo, attirando l'attenzione di due veramente esemplari cittadini, i quali, vedendolo alquanto impaurito e trasandato, con addosso un giubbotto indossato a petto nudo, un pantalone sgualcito ed un paio di scarpe da tennis messe senza calze, lo hanno accolto con dolcezza, cercando di capire quale fosse la sua famiglia e dove abitasse. Dopo vari tentativi, visto che il bambino era disorientato e molto timoroso, hanno pensato bene di rivolgersi alla stazione dei Carabinieri di Rocca di Neto, dove hanno raccontato il fatto al comandante, il maresciallo capo, Guglielmo Arrabito ed i suoi collaboratori. Il minore veniva quindi accudito presso l'alloggio dello stesso comandante da parte della propria consorte, la quale provvedeva amorevolmente a lavarlo, rifocillarlo ed a vestirlo decentemente in attesa dell'arrivo dell'assistente sociale che proveniva da Crotone ed anche della pediatra che, dopo averlo accuratamente visitato, ha escluso eventuali violenze di natura fisica ed ha confermato l'esistenza di un discreto strato nutrizionale. Nel frattempo i militari iniziavano le ricerche dei genitori, anche grazie allo spontaneo ausilio di alcuni cittadini, sia italiani che di nazionalità rumena, residenti nel piccolo centro crotonese. Finalmente, in tarda mattinata, si accertava che il bambino è l'ultimo di cinque figli di una coppia di rumeni che lavora nei campi dal mattino fino alla sera e quindi è costretto a lasciare i minori da sola a casa. Il successivo sopraluogo, effettuato dai carabinieri presso la loro abitazione, ha consentito di constatare, purtroppo, in quale stato di degrado vivevano queste povere creature, sì, liberi di muoversi per tutto il giorno, abbandonati dai propri genitori, intenti a lavorare duramente nei campi per guadagnare quel poco che gli basta per mandare avanti la famiglia. Chi badava tutti questi piccoli indifesi era il figlio più grande. Se così si può dire, visto che è appena 11 anni, i quali giocava con loro nella pubblica via e per farli rientrare nella scuola d'abitazione è composta da un'unica stanza di appena 20 metri quadri con una sola finestra ed un bagno faticente munito di un piccolo foro alla parete per l'ariazione. I muri dell'intera stanza, nella quale permanevano odori stomachevoli e insopportabili provenienti anche da quel piccolo bagno, erano senza intonaco, perché caduto a causa dell'umidità, pieni di furigine, di muffa, mentre il pavimento era appiccicoso e mal ridotto. Alcuni fili della corrente elettrica erano scoperti e pendevano dalle pareti. I vestiti erano ammassati nell'unico mobile adibito ad armadio e non vi era neanche un frigorifero per la conservazione dei pochi alimenti a loro volto trovati in evidente stato precario di conservazione. Insomma, un vero e proprio ghetto, impreziosito anche dalla presenza di sacchi di spazzatura e rifiuti di ogni genere sparsi ovunque. Dopo le formalità di rito veniva interessata la procura della Repubblica di Crotone e quella dei minori di Catanzaro, che disponeva l'immediata custodia dei bambini in una casa protetta. Alla luce di quanto accaduto ci si pone una domanda, peraltro già formulata in altre precedenti occasioni di disagio sociale che hanno riguardato la realtà di Roccatinetto. Come mai può cadere tutto questo senza che nessuno degli organi competenti ha atto un minimo di prevenzione? Ricordiamo la morte del povero Grad Gheorghe, cittadino rumeno di 58 anni, il cui corpo isanime è stato rinvenuto lo scorso dicembre all'interno di una grotta rupestre dove aveva stabilito la sua dimora, quasi sbranato dai cani e carbonizzato. L'unico risultato ottenuto in quella vicenda è stato il macabro ping pong di responsabilità tra le varie forze politiche che hanno giocato, come al solito, a scariche a barile. Ebbene, questo è l'ennesimo atto di disagio sociale e familiare di fronte al quale non si può restare inermi, pertanto ognuno si prenda le proprie responsabilità, si dia da fare con azioni concrete e non con le parole affinché si mettono in moto quelle entità esistenti sul territorio per poter effettuare finalmente un serio censimento di tutte quelle realtà bisognevoli di aiuto e di sostentamento. Per il momento possiamo dire che è stata una storia andata a buon fine, grazie all'amberevole sensibilità dei due cittadini, e alla alta professionalità dell'arma dei carabinieri di Rocca di Neto che hanno risolto il caso con alto senso del dovere e con grande spirito di solidarietà, di affetto paterno verso quei piccoli bambini che hanno vissuto fino a oggi una triste infanzia in un ambiente a loro non certo congeniale.